amici cinefili del dot e non solo benvenuti a questa nuova puntata di tutti al cinema iniziamo subito dicendovi che me contro te al suo secondo sabato si porta 3,4 milioni di euro di incassi con 517 mila spettatori e supera nella classifica italiana avatar 2 di james cameron si presume che la pellicola di me contro te nella giornata di domenica 29 gennaio possa superare il totale di ingressi della precedente pellicola avatar 2 dal canto suo mantiene la seconda posizione e anch'esso con gli incassi di domenica 29 gennaio dovrebbe salire al settimo posto della all time italiana dopo aver sfiorato i 43 milioni di euro di incassi e si avvicina a 4,9 milioni di ingressi al terzo posto troviamo il primo giorno della mia vita di paolo genovese con 342 mila euro di incassi e 49 mila 500 ingressi dopo soli tre giorni di programmazione nel film di genovese si interacciono le vicende di un uomo due donne e un ragazzino ognuno di loro ha un motivo preciso per essere disperato tanto da arrivare a chiedersi perché mai dover continuare a vivere un giorno questi personaggi in momenti diversi della loro vita conoscono un uomo misterioso in questo caso tony servillo che sarà quest'ultimo a dare loro la possibilità di osservare cosa potrebbe accadere al mondo quando non ci saranno più vi proponiamo alcuni titoli a breve in programmazione o già nelle sale the plane per esempio con gerard buttler un film d'azione che racconta di un incidente aereo e dei ribelli che prendono in ostaggio l'equipaggio ma questi ultimi non sanno che il comandante in questo caso gerard buttler non si dà mai per vinto hometown la strada dei ricordi con la regia di anna kokotska romer e matteo scudla è un film documentario presentato in anteprima al festival del cinema di roma mostra un ritratto di roman polaschi e del suo amico di infanzia oroviz che passeggiando per cracovia ripercorrono la loro vita di infanzia miracolosamente sopravvissuti all'olocausto tolienamo come anche la scorsa settimana tramite amicizia una commedia diretta da alessandro siani con lo stesso regista come attore e anche max tortora prima di darvi qualche titolo dei film di prossima uscita vi diciamo che la stranezza di roberto andò vince il nastro d'argento come miglior film dell'anno il nastro dell'anno 2023 viene assegnato come tradizione dal direttivo dei giornalisti cinematografici ed ora prossimamente al cinema shazam la furia degli dei con zaccari levi gli spiriti dell'isola regia di martin mcdonald con colin farrell bussano alla porta un film thriller dai toni horror di night shy malan tratto da un romanzo di paul trembling con dave bautista asterix e obelix il regno di mezzo una commedia diretta dal regista canè con anche il giocatore ibrahimovic che fa parte del cast per questa settimana chiudiamo qui e se volete rimanere informati su quello che succede nel mondo della settima arte seguiteci su tutti al cinema ricordate andare al cinema a lunga la vita 24 volte al secondo